bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le notizie delle ultime 24 ore di fortnite le trovate racchiuse in questi pochi minuti oggi una giornata molto importante per il nostro battle royale preferito perché fra poco arriverà la patch 15.00 parlo proprio di un paio d'ore non di più e sarà una grandissima pace che vedrà l'introduzione di nuove modalità che hanno deciso di implementare per quanto riguarda la fluidità del game su tutti i pc parliamo ovviamente di giocatori da computer una nuova possibilità di aim assist un sacco di cose nel video di oggi ne parleremo e parleremo anche di un sacco di leaks prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che stanno mettendo un like a questo video e a tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si tratta di un gradito ritorno per tutti i giocatori che utilizzano il il proprio cellulare per giocare a fortnite quindi per dispositivi android è tornato il siphon su scusatemi è tornato il siphon su ios però credo che valga valga anche per android una modalità che è sempre stata apprezzata la potete giocare in squad e quindi divertitevi perché probabilmente resterà per un tempo abbastanza limitato ma è molto divertente per prendere anche confidenza appunto con la con il siphon quindi la modalità che si utilizza nel competitive e in arena e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è stata una cosa molto curiosa ieri pomeriggio hanno annunciato il 20 dicembre la bangra cup vi ricordo che con la bangra cup potranno partecipare tutti i giocatori che hanno un dispositivo mobile che supporta fortnite il problema è la cosa curiosa che alcuni invece nel negozio hanno trovato la bangra buggy emote si dovrebbe trattare di un errore perché la bangra buggy emote invece verrà data come ricompensa nella bangra cup ovviamente è ancora presto prima di parlare fino al 20 dicembre non vi preoccupate che vi darò tutte le indicazioni su quando sarà l'orario e quali saranno i dispositivi compatibili e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle novità incredibili per quello che riguarda la patch 15.10 che uscirà oggi su fortnite questo articolo ci informa che fortnite sta lanciando una nuova modalità per performare il proprio gioco sui pc un po più datati in poche parole sarà possibile disinstallare nella nella parte dedicata alle impostazioni di fortnite adesso vi faccio vedere dove andare la modalità in alta risoluzione questo ragazzi vi farà risparmiare ben 14 giga di spazio davvero un risparmio notevole il che porta appunto il peso totale di fortnite ad un livello abbastanza decente ecco proprio il post ufficiale nella pagina twitter di fortnite status che dice appunto che indicativamente si arriverà a 23 giga di dati quindi di gioco se decidiamo di disinstallare la AIG resolution quindi la modalità ad alta risoluzione arriva anche l'articolo italiano che dice da un lato ridotto prestazioni migliori i giocatori di fortnite che usano pc più vecchi hanno una nuova opzione per giocare a partire dal 15 dicembre inaugureremo la nuova modalità prestazioni su tutti i pc che soddisfano i requisiti tecnici minimi di fortnite disponibile in alfa la modalità prestazioni sarà selezionabile tramite il menu delle impostazioni di gioco e offrirà significativi vantaggi nelle prestazioni privilegiando un consumo inferiore di memoria rispetto alla qualità visiva e alleggerendo il carico sulla cpu e sulla gpu per giocatori che già fanno uso di impostazioni a bassa scalabilità o di hardware meno potente questa modalità offrirà prestazioni migliori e un frame rate più fluido quindi come vedete siamo nella nella parte dedicata alle impostazioni prima icona in basso rendering mode performance alpha questa è la voce che andrà selezionata per poterla attivare la modalità prestazioni e facoltativa per la maggior parte degli utenti e al momento del lancio supporterà solo le modalità battaglia reale e creativa gli utenti che fanno uso di hardware non recenti vedranno una finestra di dialogo che raccomanderà di provare la nuova modalità la modalità prestazioni potrà essere attivata o disattivata in qualsiasi momento tramite il menu nelle impostazioni con l'arrivo della modalità prestazioni i giocatori potranno anche scegliere di disattivare la texture ad alta risoluzione tramite la pagina delle opzioni di installazione del launcher in poche parole cosa dovete fare aprire il launcher di epi games cliccare su libreria trovare fortnite e cliccare sui tre puntini accanto al nome di fortnite in questo momento si apre una nuova finestra cliccate su option spunta la casella accanto a usa texture di qualità quindi là in basso spunterete ragazzi quella voce e questo vi permetterà di utilizzare la nuova impostazione se quindi volete risparmiare una valanga di spazio sul pc fatelo perché ne vale davvero la pena tutto l'articolo completo lo trovate sul sito di fortnite e poi ragazzi andiamo avanti con l'ultimo argomento di oggi perché sta girando da qualche ora questa immagine nei vari forum dedicati appunto a fortnite che andrebbe a rappresentare una skin che in realtà abbiamo già visto qualche giorno fa nel trailer del winterfest 2020 che ancora non è uscito ufficialmente ma è stato spoilerazzato ve lo voglio fare rivedere dura una manciata di secondi open your holiday are filled with legendary supply drops arriveranno dei regali sicuramente come vedete là in basso a destra proprio sotto l'aeroplano si vede questa skin con il bastoncino di zucchero l'aeroplano è un'altra cosa molto interessante mentre in primo piano la skin dello snowmando che imbraccia un lanciapalle di neve il problema ragazzi o meglio la cosa interessante è che nei file di gioco sembrerebbe invece che sia stato trovato proprio un aeroplano dedicato al natale quindi al winterfest 2020 potrebbe essere un chiaro segnale di un ritorno anche se magari per un tempo limitato degli aerei insomma ragazzi io anche oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tanto per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao